e come ogni martedì è tempo di live e sport stories e parliamo di una disciplina un po' particolare che non si vede tutti i giorni stiamo parlando del footbike, ne parliamo insieme a Nicola Zamuner ciao Nicola, benvenuto ciao, hai saluto tutti gli ascoltatori allora Nicola, cosa possiamo definirlo nel frattempo che vediamo anche qualche immagine perché bike ci assomiglia a una bicicletta foot sono i piedi, mi dà idea che è una bicicletta che si fa con i piedi? allora la footbike non è altro che un monopattino muscolare ha la pedana più lunga di un monopattino classico e è la sembianza di una bici e questo è il prodotto footbike il bello della footbike è che muove completamente tutto il corpo sia la parte alta che la parte bassa e come hai visto dalle foto ormai si è inserito per ben dentro alle piste in poche parole quindi sul processo dell'atletica e quello che sta muovendo l'atletica stiamo inserendo la footbike e ci sta dando degli ottimi risultati allora prima di parlare dell'aspetto anche normativo un po' anche di ACS andiamo ancora a capire questa disciplina ha le ruote, ha una ruota davanti più grande di quella piccola bravissimo, ci sono diversi modelli però solitamente la footbike ha una ruota anteriore più grande della posteriore e ci sono dei diversi modelli questo perché? C'è un motivo? ma non è che ci sia un motivo ce ne sono anche diverse che hanno delle ruote anteriori più piccole per situazioni dovute all'altezza della persona vengono inserite delle ruote anteriori più grandi vale a dire la misura 26 o 28 anteriore è predisposta per un adulto in poche parole o tendenzialmente un ragazzo con un'altezza alta e invece le ruote anteriori da 20 e retro 16 sono solitamente per i più piccoli e può esserci anche delle versioni che montano un anteriore e un posteriore uguali come per esempio il 28 e 28 insomma e questo per facilitare cosa? cioè si ha una spinta diversa hai un raggio maggiore esatto è come fosse una bicicletta da corsa per esempio il 28-28 il 28 raggio 28 anteriore raggio 28 dietro e posteriore è come avessimo proprio effettivamente una bici da corsa quindi si hanno delle velocità anche interessanti perché si possono raggiungere di media anche i 27 all'ora proprio di media senti un attimo ragazzi mandati quel video all'inizio vedete questo ragazzo con la maglietta blu il secondo eccolo vedete la tecnica eccolo qua quello diciamo nella parte più interna nella gossia più interna lui fa un movimento che quasi si piega ecco bravissima raghella che ce lo rimandi a vedere guardatelo il piede destro lui e la gamba destra come se molleggiasse per dare quello che Nicola una spinta per dare maggiore spinta esatto una maggior spinta quindi nella footbike la parte predominante c'è il piede quindi il piede nella parte anteriore del piede va a spingere completamente tutta l'arcata del piede e a promuovere proprio la spinta e a differenza della bici la footbike non ha un carico sulle articolazioni del ginocchio quindi perché spinge praticamente magari più quadricipiti e tre cipiti bravissimo esatto e di conseguenza quindi tutto il lavoro viene fatto viene fatto nella parte nella parte del piede ecco ma lì il lavoro viene fatto come chi va in bici cioè è lo stesso o la spinta è diversa? allora è differente il lavoro che viene esercitato proprio nella parte anteriore del piede quindi è proprio completamente differente dopo dipende dipende dalla sulla bici abbiamo un carico elevato anche sul ginocchio e quindi di conseguenza sulla footbike il lavoro che va a esercitare viene di carico sulla parte anteriore va a sollecitare tantissimo e ad allungare l'ipsos un muscolo interno all'anca che è difficile da allenare nel nel ciclismo per esempio il ciclismo è bloccato tutta la parte anteriore dell'ipsos quindi e anche tu parlavi della possibilità di muovere anche tutto il corpo no? nel ciclismo non si ha ecco qui dov'è la spinta sulle braccia la parte superiore del corpo? allora quando si va a caricare il ginocchio ok quindi nella parte di spinta di carico di spinta del piede e dell'allungamento che viene effettuato dopo ok cioè prima il carico di spinta e dopo l'allungamento delle braccia ok e quindi di conseguenza va a muovere tutto l'arco della spalla del braccio in poche parole e per una determinata postura che viene che può essere tenuta dovuta al braccio girando completamente anche la parte del del gomito viene fatto lavorare anche la parte bassa del dorsale del del corpo quindi ti assicuro che per questo che è una bella fatica insomma eh sì sì senti andiamo sulle competizioni no 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 però senti abbiamo visto tanti ragazzi anche quindi chi lo può praticare veramente dai piccoli gli adulti ci sono varie categorie come funziona guarda all'inizio sono partito proprio ti parlo di dieci anni fa ormai ad insegnarlo alle donne per reclutare cioè per tonificare più che altro tonificare il gluteo è partito tutto quanto da questo l'abbiamo visto anche una ragazza quindi è partito completamente per per la rassurazione proprio del gluteo e diversificare proprio l'allenamento su di essa e per questa che è nato tutto un un lavoro che ho dedicato anni a promuovere questo e con il presidente Andrea De Lazzari si è formata la federazione che grazie che grazie ai CS ha sposato completamente il il format footbike in poche parole e l'abbinamento footbike atletica ha reso perfettamente quello che si voleva fare cioè inserire tutto un 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 allenamento all'interno delle piste e soprattutto delle gare che vengono messe in diverse specialità dei ragazzi anche perché è uno sport multidisciplinare se abbiniamo questo a uno sport multidisciplinare aiuta tantissimo la progressione dei ragazzi sui diversi sport e quindi la footbike è importante proprio per questo per per aiutare i ragazzi a esplodere in in altre anche specialità quindi che sia anche la footbike di per sé ma può aiutare anche diciamo che può essere proprietario anche per altre discipline esatto potenziare comunque i muscoli esatto e ho visto che la pista e anche la strada ecco ci sono delle distanze minime delle distanze massime si può correre all'interno di un impianto esatto ecco lì mi sembra che erano lo stadio dei marmi o si può correre anche fuori strada magari bravissimo si può correre anche fuori strada infatti le maratone tra virgolette i 42 chilometri vengono fatti fuori strada su percorsi preparati tra virgolette solitamente anche dove non c'è magari traffico tra virgolette perché il problema è sempre quello il traffico tra virgolette anche su determinati circuiti e comunque le distanze sono dai 10 20 e 42 chilometri e quindi una bella distanza diciamo che ci vuole tanta resistenza cioè il lavoro che viene fatto come un maratoneta è di resistenza di fibre ecco pensavo fosse invece magari un 800 metri un 1200 cioè anche magari un po' più di velocità ci sono anche queste discipline di specialità allo stadio dei marmi abbiamo fatto tutto lo sprint lo sprint suddiviso nelle varie categorie vale a dire i 200 metri per i ragazzi dagli esordienti ai cadetti i 400 metri che ricoprivano completamente le categorie prefissate che possono andare dai ragazzi agli junior i senior e i master e dopo gli 800 metri che coprono le stesse distanze e i 2000 metri e i 2000 metri idem che coprivano le categorie complete allora tu prima hai parlato il presidente che salutiamo Andrea De Laze esatto lo ringraziamo purtroppo per impegni non è potuto essere con noi si dispiace perché l'avremmo voluto qui è stato molto gentile e cortese comunque tu insomma porti veramente in alto questo nome anche perché sei un grande atleta mi hanno raccontato così insomma e ci credo assolutamente vista anche la mole la mole fisica diciamo che non siete una FSNI quindi scusate una federazione italiana sportiva ok siete una federazione vi siete costituiti e siete sotto un'egita ICS che praticamente noi curiamo anche in questo spazio con grande con grande piacere e quindi cerchiamo di mettere al corrente dei più anche tutte quelle discipline che come la vostra diciamo non sono conosciutissime come il basket la pallavolo eccetera eccetera e state facendo un percorso anche importante normativo ecco avete trovato le porte aperte diciamo Bruno Molè al presidente nazionale vi ha spalancato le porte infatti guardi ringrazio e ho avuto la fortuna anche di conoscerlo quando abbiamo costituito la società a Roma è una persona splendida che ha aiutato questo questo sport insomma ad emergere ci siamo trovati nella situazione del covid che puntavamo un casino l'anno scorso a sport games scusami l'anno scorso ma quest'anno a sport games che doveva tenersi a Roma purtroppo per farlo esplodere contavamo veramente tanto su quell'esibizione purtroppo non è andata in porto e di questo ci dispiace per tutto e quindi di conseguenza è stato è stato un flop tra virgolette dovuto al covid che speriamo di di superare a più breve nel prossimo anno del 2020 senti e quindi no no prego e quindi è questo puntavamo su diversi speciali su diversi eventi per farlo per spingerlo ecco perché va spinto per esempio anche nel contesto che abbiamo fatto allo stadio dei Marmi ci siamo adentrati nell'inserimento con una gara di di atletica quindi facendo più conoscere questo sport a tutti quanti gli iscritti insomma che c'erano qui senti dove dove è nato cioè una magari una regione o uno stato dove è nato e quanti anni fa e in Italia come si sta allargando io penso tramite voi sicuramente che siete i primi portavoce beh allora è nato negli anni 90 dalle parti della Scandinavia quindi in quelle parti lì è nato dall'uscita a fondo perché se guardate bene la tecnica dell'uscita a fondo è la stessa che ha la FITUBIKE quindi è per quello che all'inizio dicevo muove completamente tutto il corpo perché è così ecco è nata perché è un fondista in poche parole doveva allenarsi nel periodo estivo perché non c'era neve e quindi è nata da quello la FITUBIKE e dopo si è evoluta sempre sempre più sulla parte soprattutto della Finlandia dove ci sono nate aziende che producono proprio le FITUBIKE e dopo nella parte della Repubblica Ceca Olanda Francia Germania diciamo dove hanno delle piste ciclabili di più di noi dove hanno anche una cultura dell'ecologia dell'aria aperta dell'aria pulita soprattutto i paesi più a nord quindi la Scandinavia e questo può essere anche un stramito importante abbiamo visto anche nelle maggiori città italiane Roma Milano come come il monopattino elettrico abbia preso un grande piede soprattutto nel centro esatto e questo può essere però un'altra un'alternativa al monopattino elettrico guarda noi abbiamo fatto un grazie alla TL etica la società che che si è affiliata alla che è la mia società in poche parole che che qui aiuto a diffondere proprio anche lo sport della la footbike abbiamo fatto un test proprio effettivo con i ragazzi con i 20 ragazzi che si sono cimentati a Roma siamo partiti in treno quindi tanto per farti capire il potenziale della footbike siamo partiti in treno ok da Treviso abbiamo caricato le footbike nel treno e siamo arrivati a Roma e da Roma io da trainer ho fatto da da cicerone tra virgolette portando i ragazzi fino allo stadio dei Marmi percorrendo la città e quindi ho trovato anche simpatica la storia perché avevo paura della situazione del portare i ragazzi perché pensavo del traffico di Roma che è un po' folle bravissimo esatto però sinceramente sono riuscito a portarli e a far vedere completamente tutta una parte di Roma e ci siamo veramente divertiti quindi è stata molto comoda ti dico la verità proprio veramente comoda mi dirai che dalla stazione Term mi hai fatto magari il muro d'orto perché conosce Roma che è tutta in discesa il problema poi è a ritorno che è tutta in salita però però si fa tranquillamente si fa tranquillamente ma ce l'hai i freni no? si si ce l'hai i freni e come ce l'hai i freni e come ha il faro tra virgolette la luce è come fosse una bici una bici senti ma ebbè negozi ovviamente noi no sono molti o noleggi di bici ecco è difficile acquistare o noleggiare il no il monopattico no adesso proprio stiamo creando tutta una situazione con AICS quindi formando dei tecnici intanto che ne abbiamo ormai tanto bisogno e quindi è per quello che ci spendiamo per formare dei tecnici per dopo divulgare insegnare le ditte per vendere i monopattini ci sono perché ce ne sono diverse e dopo i vari tecnici oppure sottoscritto direziona il dove e come e grazie anche appunto state state muovendo i miei passi anche perché senza lo strumento quindi la bike è un po' difficile poter andare tornando su AICS che hai parlato insomma hai parlato bene siete stati accolti nella miglior maniera state crescendo ecco le prime gare che si sono si sono svolte e come ti ho detto in Italia ci sono delle regioni un po' più che si pratica un po' di più io per esempio ho visto poi ti lascio la parola ho visto per esempio durante l'estate piace andare con la famiglia in montagna e ho visto veramente una grande attenzione alla natura alla cultura scusa alla cultura di rispettare la natura quindi più ciclabili più monopattini rispetto alla città so che è difficile infatti in città c'è il monopattino elettrico però visto al nord un po' più di cultura in questo caso allora dobbiamo ringraziare anche il monopattino elettrico che ha sdoganato la situazione nostra quindi il discorso legato al monopattino e alla footbike però purtroppo ancora questo viene un po' tra virgolette ridicolizzato magari vedendo anche un ciclista quando ti guarda dice ti guardi in modo anche strano però la footbike veramente allena tutto il corpo quindi non è da sottovalutare io lo dico e lo affermo da trainer e da preparatore atletico io alleno persone proprio di footbike e alleno triatleti e alleno ciclisti quindi quindi è proprio da guardare in tutto il suo formato che ha questa questa bike qui lavora il core training c'è la parte centrale del nostro corpo e quindi il lavoro sul core serve per i calciatori per i tennisti per i golfisti per tante per tante persone quindi le donne lo dico quando provano la footbike si innamorano veramente del prodotto e non lo mollano ma perché si divertono però insomma tu mi sembri a capire tu sei veneto sì io sono veneto ecco dico dalle tue parti comunque insomma con la tua società è abbastanza sviluppato ci sono altre parti dove magari hai già delle altre città o delle altre società in cui si pratica allora Verona è un posto che che sta crescendo pian pianino dopo tutta la parte di Rovigo che anche lì ci sono parti e persone Ferrara Milano appunto nei vari proprio l'idroscala tutta la parte dell'idroscala tutta la parte del Polesine ecco ma veramente ci sono vari posti che che ha cioè io me ne accorgo del potenziale guardando anche l'ambiente e tanto per dirti la parte di Treviso collega con una parte che appunto si chiama Restera tutta la parte che arriva fino a Jesolo e da Jesolo arriva fino a Venezia e tutte tutte strade alternative che adesso vengono fatte fiorire proprio dai vari comuni dalle varie regioni sono sfruttabili e quindi è un allenamento in tutto e per tutto beh ci vuole anche comunque diciamo le strutture in questo caso le ciclabili andare in mezzo dunque al traffico è anche pericoloso però è diciamo uno sport è stare all'aria aperta va bene in contatto con la natura forse ci si innamora per questo si ha bisogno sempre di più oggi con la vita frenetica lo stress il caos di rigenerarti esatto quindi io in questa trasmissione ho parlato con tante persone a cui piace magari andare in barca a vela perché stai a contatto con il mare piace andare nella natura siamo qua conosciuti anche tante altre discipline come la tua ecco c'è bisogno anche di questo vedi nelle persone questa nuova esigenza sì 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 questo lo sto notando sempre più e io porto le persone proprio a vedere bei posti e soprattutto anche i giovani a staccarsi dal quotidiano tra virgolette perché hanno bisogno staccarsi anche dalla tecnologia perché veramente è opportuno quello a volte proprio per scaricare e porto sempre nei bei posti quindi che ammirino i bei posti facendo esercizio fisico e adesso come come non mai ce n'è bisogno ecco senti dimmi poi i prossimi appuntamenti e i prossimi eventi se magari fate dei raduni anche con ICS ci sarà nel prossimo anno un raduno federale quindi adesso in base alla gara di Roma degli vari tempi che ho potuto notare da persone dei vari personaggi dei vari atleti nuovi che si sono cimentati ho visto dei ragazzi molto molto forti che che quelli sono da aiutare per crescere sempre più e quindi ci saranno il prossimo anno intanto dei raduni dopo ci saranno delle varie gare che abbiamo intenzione di di fare e vale a dire i campionati regionali proprio nelle varie regioni italiane e e dopo i campionati italiani sprint e i campionati italiani classici proprio del lungo e riservato uomini donne insomma anche andere tutti esatto esatto tutti quanti ci saranno i mondiali in estonia e e dopo quindi anche una nazionale esatto sì sì io per quello che ti dico devo selezionare i ragazzi perché già li ho portati a Roma a fare i campionati italiani diversi e dopo lì in base ai tempi deciderò i più forti vedrò in base ai vari raduni come si metteranno sia nel lungo e che nella sprint insomma e una cosa anche nei mondiali c'è la staffetta quindi la staffetta 4x400 quindi è da curare tantissimo e è una cosa molto valida anche per per una medaglia insomma diciamo che di strada ce n'è da fare tanta però il il mezzo è giusto insomma parafrasando un po' qualcosa insomma la strada è tanta però c'è tanta voglia di fare e insomma questo questa footbike può aprire veramente nuovi scenari esatto Nicola è una gara bella che dovremmo fare che organizzeremo sarà Bibione sarà la tappa di Coppa del Mondo ok quindi in Italia e è organizzata la federazione della Fibba insomma è tanta roba ecco bene grazie grazie veramente a te Nicola per averci impreziosito e ci fatto conoscere la footbike buon buon lavoro a te a ICS grazie grazie mille Gianluca e un saluto a tutti gli ascoltatori grazie grazie Andrea Zamunera grande in bocca al lupo per il lavoro che si appresta a fare insomma abbiamo conosciuto veramente un'altra bella disciplina un altro sport anzi possiamo dirlo perché è veramente una pratica sportiva a tutto tutto tondo venuta dai paesi scandinavi e portata qui in Italia e quindi l'abbiamo conosciuta anche attraverso questo spazio ECS che ringraziamo per la per averci insomma fornito questo collegamento bene Sporting Club termina qui e noi ovviamente diamo appuntamento alla prossima puntata e da parte mia Gianluca Scalati è tutto ciao das soldato centina lontano